Il 3, leggermente il 3 indietro, stop 3, indietro l'1, indietro poco l'1, stop 1, fermi così, attenzione, via! Partita, partita la finale del Gozzo Master maschile, canottaggio Porto Azzurro in acqua 1, Club Sportivo Uralini in acqua 2, Lega Navale di Lerici in acqua 3, 1500 metri, è la terza gara di questo bellissimo programma di finali qui a Porto Azzurro, Porto Azzurro-Urania e Lega Navale di Lerici. Porto Azzurro che si avvicina al primo dei tre giri di Boa, che vuole consolidare il suo potere anche tra i Master, e dopo la vittoria abbiamo visto i protagonisti a Genova dopo un lungo viaggio, sono arrivati... E costoso. Lungo viaggio, vabbè, costoso, però valeva la pena per vedere la zona, arrivano in Boa, Porto Azzurro, poi Lerici, poi Urania, e forse quella barca a cui facevi riferimento c'è, quella barca di vantaggio. Infatti, due secondi, una barca di vantaggio. Ma c'è adesso, non c'era prima. C'è adesso, sono usciti molto bene, molto forte, e anche in prua mi sembra che il capovogo Dario Conte non lo sente il vento in prua, porta le patate e porta la prima. L'arrivo e vanno a girare in questo momento, poi la Lega Navale di Lerici, poi l'Urania. 6,46 Porto Azzurro e Lerici 6,50. Esce l'arca questa volta a Lerici, Porto Azzurro gira bene, però direi che sul passo il distacco è rimasto questo. Gara, ricordiamo con Conte, Lupi, Galullo, Tuccio e Bertoni, Tuccio, Nuovo e Nesto, ricordavi Michele. Poi abbiamo l'equipaggio della Nega Navale di Lerici e poi l'equipaggio dell'Urania. Siamo nell'ultima vasca di questo percorso, di questi 1.500 metri, gli ultimi 375, diciamo divisi ormai a metà perché... Partito Dario Colsera, partito Dario, bellissimo, bellissimo Sera, guarda come bello. È partito Porto Azzurro che sta decisamente accelerando per andare, non a vincere, ma a stravincere questa gara del Gozo Master. Porto Azzurro, ancora poche palate e la storia sarà sua, una nuova pagina di storia nel canottaggio a sedile fisso nel Gozo Master. Porto Azzurro, ultime quattro palate verso la vittoria nel Gozo Master, Porto Azzurro è campione d'Italia. Medaglia d'argento per la Lega Navale di Lerici, bronzo è terzo posto per la club sportivo Urania che taglierà il traguardo tra poco. Questo è l'esito della finale Master, la terza in programma, con Porto Azzurro che fa il bis, dopo gli Junior anche i Master. La terza in programma, con Porto Azzurro che fa il bis, dopo gli Junior anche i Master.